e live buona quasi sera amici ciao ragazzi ciao amiche ciao amici benvenuti all'interno di questa live oggi giornata direi che fra sabato estate in arrivo e bear market in cui ormai siamo dentro forse potremmo spingerci ancora oltre diciamo che ritengo che essere quelli che siamo sia un ottimo numero no dai scherzo solamente che chiaramente rispetto ai momenti di bull market rispetto ai momenti in cui le persone sono fogatissime dai che prende migliori epi dai che cresco un sacco così è chiaro che questo sia un momento molto 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 di ribasso e bene noi siamo qui comunque ciao amici fatemi sentire che ci siete in chat datemi un po di vibrazioni così che possiamo iniziare a far funzionare questa live possiamo iniziare e io posso soprattutto capire che cosa volete affrontare oggi io ho una bella un bel set di notizie ma chiaramente come sempre mi fa un sacco piacere avere tanti 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 spunti da parte vostra bene eccoci qua allora sabato 4 giugno diciamo che stiamo arrivando veramente ciao ragazzi ciao pietro ciao giuseppe ciao alex ciao martina martinazza ciao feder questi quelli che sono in chat e tutti quegli altri che che si stanno godendo la diretta senza senza scrivere eccoci qua ciao paese in salvo allora iniziamo con quello che sappiamo fare meglio ossia ciao calabrese ciao ciao ossia andare a vedere un po le notizie di oggi andare a capire che cosa sta succedendo se qualcuno lo sa chiaramente me lo faccia sapere perché la situazione sembra non eccessivamente rosia per tutto il mondo cripto ma non solo cioè sembra che non sia assolutamente rosia nemmeno per il mondo della finanza tradizionale quindi siamo proprio in una fase probabilmente in un'epoca pure Elon Musk ieri mi pare l'altro ieri ha detto che e non solo ha detto ma anche fatto delle azioni concrete per mi pare licenziare un 10 per cento dei dipendenti di tesla questo vuol dire che probabilmente non si aspetta si aspetta un bear market anche sulla nella finanza classica e diciamo che ultimamente l'abbiamo anche visto ma nel ribasso ci sono quelli che ci credono per davvero certo martinazza ecco l'ho detto bene martinazza esattamente nel nel momento di ribasso e nel momento bear ci sono esattamente quelli che ci credono e quelli che sono disposti anche in questo momento a rischiare di più perché effettivamente è un momento in cui ora chi resta rischia perché effettivamente quando sarà il bottom ci sarà un bottom scomparirà tutto queste sono tutte le cose che chiaramente chiunque in questo momento si chiede e quando uno è pronto a scommettere in questi momenti poi è possibile che faccia dei gain molto più grandi di chi invece entra chiaramente nel momento in cui è tutto molto più safe o quantomeno è tutto molto più alto tutto molto più pompato ok anche lì dire che è safe non è che sia proprio giustissimo ma insomma ci siamo ci siamo capiti eccoci qua allora oggi parliamo partiamo non parliamo partiamo con sol vi volevo far vedere la situazione io credo una delle più catastrofiche nel senso che sol al suo picco era 226 in questo momento ci troviamo a 34 più o meno più o meno guardate come bnb solamente al contrario cioè bnb più o meno nel momento in cui inizia la sua forte crescita era a 34 35 ora siamo in euro vabbè poco cambia insomma 34 35 euro è arrivato a circa in questo momento a circa 280 di controvalore in dollari in questo caso ma prendete euro e dollari come se fosse lo stesso e tanto ci interessa una visione macro bene solana poi bnb è arrivato anche mi pare più di 600 dollari giusto per dire solana ha toccato il suo picco e in questo momento invece vede una situazione veramente tragica 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 non ultimo il fatto che nell'ultimo mese penso che la chain di solan sia bloccata almeno due o tre volte e tutte le volte dicono no ma è per migliorare la chain no ma per fare questo e purtroppo però se la la chain si blocca c'è poco c'è poco da fare c'è c'è molta molta molte poche persone sempre meno persone che credo in questa chain che invece probabilmente ha dei buoni del buon potenziale dei buoni spunti ma chiaramente mettici anche in questo caso l'estate il momento assolutamente non buono di qualsiasi tipo di mercato chiaramente vediamo questi crolli veramente importantissimi diciamo che se andiamo a scavare un po tutto il resto delle crypto che ne so andiamo su CRO in questo momento anche CRO non se la passa assolutamente bene su USDT quindi CRO e USDT ditemi se si vede bene ragazzi io oggi vedo un po tutto un po tutto compresso vediamo se riesco a far vedere un po meglio questa visualizzazione oggi tocchiamo gli circa 17 centesimi in questo momento ciao Alec Tarsus Ale per gli amici benvenuti a tutti quanti in questo momento tocchiamo i 17.75 centesimi 57 centesimi di dollaro la situazione è da capire bene vediamo un po a livello settimanale come si muove a livello settimanale non è non è che siamo in una grande situazione cioè questo questo ciclo vediamo a parte che poi tutto 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 come sempre si rifà su bitcoin cioè se voi guardate tutti i grafici praticamente di qualsiasi cosa una volta avremmo detto se guardate tutti i grafici a parte quello di terra tutti rispecchiano bitcoin oggi possiamo dire più o meno la stessa cosa effettivamente tutti quanti a parte terra che sostanzialmente non esiste più rispecchiano in buona parte con una buona con un buon grado di coerenza il grafico di bitcoin anche in questo caso vedete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candele negative e guarda un po quando bitcoin fa forse la sua prima candela candela positiva settimanale vediamo se la chiude davvero così anche le altre fanno una candela positiva settimanale più o meno è questo è indice che chiaramente poi tutto alla fine segue abbastanza il ciclo il ciclo di bitcoin andiamo su bitcoin un secondo andiamo a vedere la situazione eccolo qua ciclo a siamo a livello settimanale qua come vedete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candele negative non abbiamo mai avuto 9 candele consecutive di fila a livello scusatemi faccio casino a livello settimanale ed ecco qua che forse forse chiudiamo la prima candela positiva dopo tanto tempo dopo quanti sono due mesi e qualcosa in positivo non è detto perché siamo veramente a un nulla da andare nuovamente in negativo in realtà non è nemmeno detto che sia la cosa la cosa ottimale c'è effettivamente una candela di questo tipo non costruisce assolutamente un un bottom per per il livello di bitcoin ma ancora una volta sapete che io non mi occupo poi troppo a livello fondamentale di bitcoin e compagnia credo credo e scommetto nel senso che investo prendete la prendete questo scommetto esattamente come un investo nel lungo termine in bitcoin anche se so che c'erano queste fluttuazioni ma chiaramente il l'outlook nel lungo termine è quello che bitcoin chiaramente vada a valere molto di più o che comunque continui questa speriamo una volta diciamo di lateralizzazione c'è stata un po di lateralizzazione qua poi un picco e poi veramente un dump clamoroso di varie settimane bene allora ciao bernardo mi sembra più preoccupante solo rispetto a cro il suo crollo deriva dalle scelte sulla carta e lo staking credo dunque innanzitutto il crollo di chiunque deriva da dalla situazione macro economica di qualsiasi tipo cioè di qualsiasi tipo da covid guerre poi mettile tutte in fila quello è una buona un buon momento per per andare giù da su per qualsiasi per qualsiasi valuta mercato e compagnia mettici poi che sono tolto tolte le carte ma secondo me l'abbiamo scontato almeno l'effetto più grande mia personale impressione ripeto perché poi dobbiamo vedere c'è la fine di questo di questo trend negativo almeno per quanto riguarda cro e solo cro lo possiamo vedere nel momento in cui finiscono i 100 180 giorni quindi i sei mesi di di rilascio massimo per tutti quelli che avevano i staking cro ok in realtà comunque sia quello che quello che io credo è che cro anche in questo caso come vi ho sempre detto come tanti platform token bisogna vederlo nel lungo termine bisogna vederlo come sempre con l'obiettivo di vederlo integrato all'interno della piattaforma con cui si utilizza è lo stesso motivo per cui qualche giorno fa qualcuno mi ha informato dicendo ai in platform ma come farà a competere con giganti come ftx binance crypto.com e compagnia anche la risposta è ok attenzione se uno guarda il trading è un conto effettivamente è più di ftx cos'è tra l'altro amici sto preparando il video su ftx proprio oggi lo stavo scrivendo quindi spero entro qualche tempo per registrarlo ci vorrà un bel po di un bel po di tempo sono sicuro ma nel senso che ci vorranno varie ore di registrazione per montare tutti i concetti però cosa voglio dire che è chiaro che se guardi al trading rispetto a ftx in questo momento praticamente non c'è nessuno che compete cioè ftx parte da una commissione dello 0,02 per cento se non sbaglio me lo vedevo oggi ma se non se vado a ricordo come si fa a competere quando young ha il 2,5 per cento di commissioni su young young platform base e su quello pro c'ha lo 0,2 per cento cioè comunque siamo su un ordine di grandezza di differenza ma il punto è che non tutti fanno trading nella vita cioè se qualcuno vuole investire a lungo termine e sono tante le persone allora in italia tendenzialmente pochi investono ok non tutti lo sappiamo anzi ma di quei di quella parte che investe non tutti fanno trading anzi buona parte non lo fa molti molti di queste persone vuole investimenti di lungo termine per cui è evidente che può preferire una piattaforma italiana compliance con il fisco compliance con tutte le normative della registrazione italiana piuttosto che piattaforme come ftx binance e compagnia che si sono iscritte all'oam e compagnia ma che di fatto gliene frega molto di meno di essere complex grazie a alec del prime per tre mesi grazie grazie mille in questo momento mi fa un sacco piacere cioè mi fa sempre piacere in questo momento anche più del solito perché chiaramente vedere un po di un po di carica fa un sacco da come dire da un sacco di energia in un momento un pochino più scarico in cui soffriamo tutti un po di più se volete sostenere come lo sapete bene se volete sostenere questo progetto il prime è un ottimo modo e grazie 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 davvero ciao verano mi puoi dire come si apre un canale lightning network se hai un nodo se ho un nodo bitcoin dunque topics 20 onestamente non saprei risponderti a questa domanda è molto tecnica mi sta la questione mi sta interessando cioè mi interessa molto mi qualche giusto qualche tempo fa mi sono un po informato ma non sono arrivato a nessuna conclusione comunque sia vediamo un attimo se ha senso anche fare dei video da questo punto di vista non nell'immediato non credo su giugno però mi segno la tua domanda perché è molto interessante io non è che sia un grande smanettone a livello informatico però 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 si può sempre chiedere a chi lo sa fare comunque qualcosina in qualche modo me la so so fare qualcosa diciamo ok e poi quel che non so fare magari c'è qualcun altro che mi aiuta bene amici allora iniziamo con il nostro con la nostra disamina delle notizie altrimenti ci perdiamo dunque notizie che vi ho rilanciato qualche giorno fa anche su telegram che succede succede che all'interno di all'interno di nexus mutual che è una delle assicurazioni che si possono fare diciamo assicurazioni di decentralizzate ok c'è l'assicurazione che va per quanto riguarda per l'assicurazione su celsius che effettivamente schizzata piuttosto in alto sapete che negli ultimi giorni ci sono un po di un po di notizie diffuse sul fatto che celsius possa avere dei problemi questo anche causato dal fatto che celsius vediamo se lo tiriamo al volo celsius solitamente pubblica delle statistiche settimanali nelle quale fa vedere come sta andando come come sta andando la piattaforma a livello di inflow outflow di varie di varie coin ok bitcoin ethereum e qualcos'altro comunque in generale fa vedere come sta andando ecco forse non da qua ora non mi ricordo se c'è un'altra pagina di celsius dove fa vedere proprio queste cose forse celsius x vediamo se è vero bene negli ultimi settimane diciamo che hanno non tanto forse un po anche smesso di pubblicare queste informazioni ma le hanno comunque un po più nascoste e effettivamente anche vedendo nexus mutual insurace e altre vediamo che c'è una percentuale molto 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 più alta da pagare proprio per l'assicurazione detto questo bisogna uscire da celsius in massa come sempre ragazzi non è questo cioè questo è chiaro che crea il dump della piattaforma poi se tutti uscissero in massa no cioè l'ammazza completamente quindi gli ultimi che escono poi rimangono con il cerino in mano per forza di cose il punto è che bisogna essere come sempre esposti alle piattaforme centralizzate decentralizzate nella maniera più opportuna credo che da questo punto di vista spero che il video che vi ho fatto quando la settimana scorsa questo è stato qualche giorno via per cui non ho pubblicato per un po di giorni il video che abbiamo visto settimana scorsa sul mio portafoglio non dico come come diceva all'interno del video non dico che dobbiate copiarlo anzi a molta molta attenzione perché io sono molto molto esposto come avete visto dall'altra parte è utile è necessario fare come dire una due diligence e capire dove è possibile per le vostre per i vostri parametri di vita diciamo ma chiamiamoli così investire e quanto esporvi ok celsius se lo dichiarate se il come dire la la quantità di rischio che percepite per venire da celsius si è alzata diminuite l'esposizione banalmente ok è sempre questo il gioco se non vi fidate più di celsius chiaramente uscite chi vi dice cioè nessuno vi dice di rimanere in una piattaforma di cui non vi fidate però attenzione che siamo anche in una fase in cui di notizie ne corrono tante in cui non si capisce bene in cui ora sembra che ducon sia per esempio il peggio terrorista della storia quando probabilmente non è che l'abbia fatta tutta pulita però nemmeno posso pensare che sia un terrorista di al qaeda per dire no cioè nel senso bisogna un attimo mediare pare che ora ci sia una società a suo nome al nome di alcuni prestanome che avrebbero riciclato 5 6 milioni di dollari in luna quest'ora non mi ricordo bene ma prima di sparare questa notizia come reale voglio avere delle delle contro informazioni delle prove un pochino più sicure altrimenti qui iniziamo a sparare tutto quanto su celsius un po la stessa cosa cioè nel senso non è che fino a ieri era al top oggi è uno schifo attenzione come sempre a mediare le informazioni e la propria esposizione le cose vanno di pari passo ciao bernardo cosa ne pensi di una avrà un'utilità in futuro rispetto ad altre tante a tante altre coin neo style 90 guarda ma forse me l'avevi già fatto questa domanda qualche tempo fa non lo so ma per me rune è molto interessante assolutamente interessante sono molto bullish su rune in questo momento però dopo la scopola di luna cerco di espormi meno anche pubblicamente perché io sono molto bullish però attenzione amici cioè non voglio rifare tutto il discorso che ho appena fatto però attenzione non è che quello in cui investo io è quello che penso sia è quello che penso sia sia buono su cui investire ok ma non fate le stesse cose che faccio io per forza di cose ok neo style sì nel mio portafoglio un 2 per cento allocato di rune più o meno chiaramente un po' oscilla nel corso del tempo rispetto a vari parametri però tendenzialmente un 2 per cento in nel mio portafoglio che comunque è una percentuale piuttosto alta contando che appunto tra il 72 e il 75 per cento è bitcoin quindi sostanzialmente tutto il resto è diviso fra altre piattaforme i platform token ma guarda guardati il video che ho fatto sul penultimo video dovrebbe essere in questo momento secondo me è utile per capire un po' come allocco le mie le mie risorse cioè non è che è utile è proprio come allocco le mie risorse quindi credo che sia proprio il il topic che stai cercando dunque papà 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 che ne pensi soliditi vale la pena impararlo per te ah dunque pandora mkw mi fai una domanda anche in questo caso che su cui sono un po in difficoltà risponderti perché io non sono per l'appunto un gran programmatore cioè non sono non nasco come informatico programmatore quindi non so non so dirti precisamente che tipo di linguaggio è e quanto è complicato forse ale ale tarsus dacci qualche dacci tu qualche risposta perché ale è molto più programmatore di me ecco sicuramente sicuramente ne sa molto più di me dunque andiamo un attimo avanti poi riprendiamo tutte le domande argofinance qualcuno prima diceva grazie per il video su argofinance grazie a voi ragazzi spero che vi sia piaciuto credo che sia un buon video per iniziare a capire come funziona il liquid staking chiaramente è una cosa che ho detto tutte le volte che faccio i video mi capita spesso di dire cavolo questa la potevo inserire come cosa sarebbe stata molto molto utile per far capire alcuni concetti quello che voglio dire che argofinance si mette come intermediario fra lo stake puro e noi ok quindi se noi tramite lo stake puro andiamo a mettere direttamente quindi io vado a mettere direttamente in stake e c'è un rapporto diretto fra me e la chain sostanzialmente tra il mio wallet e la chain tramite argofinance c'è un intermediario è chiaro che ogni volta che c'è un intermediario c'è un rischio in più un rischio di natura proprio di fiducia cioè fidarsi che chi c'è dall'altra parte faccia le cose fatte bene e un rischio di tipo di tipo di un exploit cioè che qualcuno trova un buco nello smart contract e si prende quello che c'è dentro e chiaramente quello che c'era dentro era quello che era mio e quindi io vado a perderlo ok questo è questo è il punto dall'altra parte i vantaggi come sempre a più a maggiori rischi corrispondono maggiori vantaggi maggiori vantaggi è quello di avere dietro bc ro se andiamo un attimo dentro ad argofinance rifacciamo velocemente voglio dunque entriamo dentro qua dentro la defi poco a poco vedrete che ora c'è solamente la pool che vi ho fatto vedere ieri nel all'interno del video poco a poco probabilmente si aggiungere altro come vedete la percentuale di apy cala per forza di cose cioè perché è così perché all'inizio serve la percentuale di apy è pompata proprio per far arrivare liquidità dopodiché cala è normalissimo ok quello che mi aspetto è che bf finance riesca a integrare vediamo un po se riusciamo a vederlo non credo che l'abbia già fatto non credo non credo proprio bc ro infatti non c'è ancora ok che vada a integrare una strategia su bc ro tramite vvs quindi sostanzialmente che vada a fare a prendere questa strategia su vvs finance datemi un secondo che ve la apro quindi farms bc ro bc ro cro multi yield come vedete si guadagnano in due criptovalute differenti vvs xargo questo abbiamo tutto visto questo il 68,81 per cento che è lo stesso che c'è di qua più o meno si deve aggiornare il numero ma il concetto è lo stesso e lpr tramite o bifi che sostanzialmente cosa va a fare bifi bifi va a prendere le rewards a damparle a ricomprare in bc ro cro quindi andare a comprare questo lp token e a rimetterlo dentro tramite questa questo meccanismo sostanzialmente si va a togliere il problema delle earns in vvs e xargo anche se attenzione xargo per togliere dallo stake ci vuole diciamo si prende al 50 per cento se si vuole fare subito quindi se si vuole dappare dampare immediatamente questo potrebbe essere un problema per una una possibile strategia di bifi ma dall'altra parte quindi da una parte dampa immediatamente vvs xargo dall'altra parte ricompra subito c ro e bc ro e quindi una possibile strategia di bifi finance potenzialmente potrebbe avere anche un apy leggermente inferiore a questo ipr proprio per il fatto che xargo nel caso venisse dampato istantaneamente chiaramente a un 50 per cento di penalità se non avete capito bene riguardate il video di ieri che sarà tutto più chiaro ma dall'altra parte potrebbe garantire un guadagno direttamente quindi un apy direttamente in cro o b cro che poi sostanzialmente sono la stessa cosa almeno diciamo istantaneamente ok quindi questa è la strategia che penso non appena dovesse venire fuori chiaramente ve lo dico o non appena dovessero venire fuori altre strategie ve lo dico o se non ve lo dico io perché la vedete prima voi chiaramente ditelo a tutti quanti perché perché è proprio la parte che ci interessa usare b cro per andare a creare un ipo aggiuntivo altrimenti banalmente non ha senso cioè altrimenti sia per sicurezza che per tempistiche vado a mettere cro all'interno dello stake e faccio prima bene chiudiamo un attimo tutte queste cose passiamo un attimo su dunque 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 le domande datemi un secondo solo andiamo un attimo su lido finance perché è stato introdotto il lo staking di polkadot ok quindi si può fare il liquid staking di polkadot stesso concetto che abbiamo appena visto su argom ma per quanto riguarda polkadot ok quindi si può fare stake now bisogna magari ci faccio un video dedicato perché è un pochino più complicato fare questo liquid staking che prevede di fare un doppio passaggio ok comunque sia hanno anche in questo caso messo la pool su moonbeam su curve con sottorete moonbeam di st xc dot st dot con un rewards un apy piuttosto interessante quindi se vi interessa sappiate che in questo momento è più è più facile andare a mettere in stake dot che diciamo che non è proprio una delle cose che devono migliorare quelli di polkadot è proprio l'interfaccia utente perché alle volte è un pochino complicata quindi poco a poco lo stanno facendo tramite anche appunto le varie chain paracain che stanno che stanno nascendo ok andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti justin in realtà questa notizia è di ieri se non sbaglio no di tre giorni fa mannaggia pensavo fosse ieri coinbase ha in realtà ftx ha avuto un maggiore volume di trading rispetto a coinbase questa è una notizia piuttosto importante coinbase è il maggiore istituzionale diciamo a livello mondiale a quasi un centinaio di milioni di utenti che iniziano a essere un quantitativo piuttosto importante ftx ora non ve lo so dire su due piedi quanti utenti abbia ma probabilmente di meno tralasciando che ritengo che ftx sia 100 volte migliore di coinbase ma tralasciando questo diciamo che anche i numeri gli danno ragione perché come vedete il volume di trading è stato maggiore in maggio vedremo però nei prossimi mesi cosa succede sicuramente ftx si sta a tratto moltissimi utenti dalla situazione di terra luna perché dove gli altri hanno bloccato non volevano perdere tutto quanto ftx in maniera completamente trasparente ha lasciato il trade attivo ha continuato a far tradare le persone e questo chiaramente ha creato molta molta fiducia nei confronti dell'exchange a questo punto andiamo a rivederci un po di domande che mi avete fatto allora 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 ciao bernardo visto il trend a ribasso potresti spiegare in qualche video il concetto di short in copertura ok toro 176 l'importante è capire il concetto di short cioè quando si va long il concetto è che si scommette sul rialzo di di un asset in generale ok quindi se io vado long su bitcoin sostanzialmente sto comprando bitcoin a 1 e lo voglio rivendere a 10 o comunque lo voglio voglio che bitcoin si alzi di prezzo ok quando gioco short diciamo quando apro una posizione short sto giocando a ribasso ok quindi sostanzialmente è come se io vendessi prima di comprare vendessi degli asset bitcoin quindi mettiamo che io li venda in realtà li prendo in prestito e li vendo il concetto è questo li prendo in prestito li vendo a 10 aspetto che bitcoin si abbassi quando arriva uno li ricompro e li restituisco il prestito quindi sostanzialmente se io ho preso 10 bitcoin a 10 ok a valore di 10 valevano 100 e li rivendo e bitcoin poi arriva a 1 ok quindi io li ho presi in prestito li ho venduti io devo devo rimandare indietro 10 bitcoin ma 10 bitcoin ora mi costano 1 cioè mi costano 10 per 1 quindi 10 ok questo tutto questo è complicatissimo da fare in live è molto più semplice su un foglio di calcolo ok sostanzialmente vado a chiudere poi il mio prestito e il prestito che avevo preso lo chiudo con un valore molto minore e quindi quella parte di mezzo chiaramente è mio guadagno quindi il concetto è che long scommette sulla sulla rialzo del prodotto dell'asset short scommette sul ribasso dell'asset ma anche in questo caso come come dicevi tu stesso conviene farlo all'interno di un video per capire meglio di che cosa si sta parlando e sicuramente lo farò perché è molto utile capire questi concetti proprio per quanto riguarda un'operatività più appunto lato trading ma anche lato copertura appunto all'interno degli exchange quindi ha fatto il video su fdx e poi voglio approfondire la parte che riguarda futures perpetual che riguarda diciamo questa questa parte questa operatività un pochino più intelligente un pochino più avanzata all'interno proprio delle piattaforme di exchange dunque 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 per adesso secondo me bisogna accumulare solo bitcoin top x20 potrebbe essere un'ottima idea in questo momento e anche su bitcoin bisogna capire comunque se ha senso accumularlo subito quindi se uno ha un pack chiaramente lo continua senza problemi dall'altra parte invece potrebbe essere che se uno vuole fare un'entrata a un prezzo migliore potrebbe dover voler aspettare qualcosina in più dunque a questo punto il merge dth ci devo preoccupare dunque matrinazza e questa è una domanda molto interessante perché è uno di quegli esperimenti che in un qualche modo cambieranno molto il corso del mondo crypto della defa in generale perché avere questo grande cambiamento non è stato mai provato cioè non è stato mai provato che una chain così importante come ethereum in questo caso che è la seconda chain per per importanza per capitalizzazione cambi completamente il metodo di consenso quali saranno le 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 complicazioni chiamiamoli quali saranno gli effetti gli effetti avversi è diciamo è complicato da sapere complicato da 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 anche solo anche solo da magari non succede nulla magari succede il patatrac ecco sono stati pensati a vari eventi a vari a vari scenari potenziali però è veramente difficile capire io da parte mia sono un po scettico sulla questione o comunque non non vedo nel breve termine un un una conclusione molto cioè preferisco non espormi diciamo così preferisco non espormi troppo ed è per questo che negli ultimi mesi ho abbassato la mia esposizione su ethereum l'avete visto anche nel video sulle sui miei asset e avendo abbassato la mia esposizione diciamo che rischio in questo momento se ethereum dovesse scomparire dalla faccia della terra rischio il 7 per cento del mio portafoglio perché comunque poi ritengo che sia un asset troppo importante per eliminarlo dal mio portafoglio ci sono alcune aziende per esempio bene tazzo se non sbaglio lui ha lui e la sua azienda hanno eliminato completamente ethereum dagli asset dagli asset che gestiscono perché probabilmente non non gli interessa non lo vedono non lo vedono come un buon asset nel lungo termine ok quindi questo va fatto un attimo di anche qui di due diligence ma in generale come sempre rischia quello che percepisci di io ho abbassato la mia io ho abbassato la mia esposizione banalmente questa è stata è stata la mia conclusione dunque 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 mmf si riprenderà in causa libera allora neostyle in questo momento penso che l'ultimo dei problemi sia mmf cioè capisco che se sei esposto ti fai la domanda però dall'altra parte mmf come dire è un token molto debole cioè segue direi che in fila segue cro che poi segue bitcoin ok quindi già una doppia dipendenza ma probabilmente come sempre la dipendenza più grande è quella da bitcoin ok dunque 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 riprendiamo un attimo il flusso e poi torno alle vostre domande andiamo avanti orca kugira orca kugira il 13 di giugno dovrebbe lanciare la tesnet quindi questo a quanto dicono dovrebbe includere lo snapshot lo snapshot genesi quindi il primo snapshot da terra quindi il 13 se non capisco male sarà il 13 stesso che faranno lo snapshot ma insomma daranno daranno maggiori informazioni e dentro la fine del no non la traduzione eccole qua e dentro la fine del mese dovrebbero lanciare vediamo within two weeks per la mainnet ok quindi molto interessante entro la fine del mese entro giugno dovremmo avere la nuova mainnet la nuova chain di orca kugira che sapete bene il protocollo per andare a liquidare altri protocolli questo è veramente stra interessante vedete che quando un progetto è forte stabile funziona si può avere chiaramente un momento di blocco cioè terra era chiaramente un posto buonissimo per crescere per orca kugira ma dopodiché può diventare il protocollo di liquidazione di qualsiasi altra di qualsiasi altro protocollo chain compagnia e quando un protocollo funziona bene si riprende velocemente funziona bene anche se der lab se non ho capito male ho capito bene ne sono sicuro ma ora non so ritrovare la notizia dovrebbe lanciare o forse ha già lanciato suo bnb chain cioè quando l'idea il core funziona fai presto poi a riprenderti perché comunque siamo in una fase cioè se pensiamo a due anni fa tre anni fa questo era sostanzialmente impossibile cioè perché non c'erano chain così così collegate così intercambiabili non c'era tender mint non c'era cosmos e compagnia adesso con tutte queste facilitazioni chiaramente rilanciare una nuova chain è tutto molto più semplice coin hall ci fa sapere che però ecco coin hall ci ha mandato qua ma io ho trovato questa tabella molto 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 più interessante nel quale ci sono tutti i progetti e questa ve la scillo direttamente in chat perché secondo me è estremamente interessante ci sono tutti i progetti relativi all'ex terra ok che si stanno in qualche modo rigenerando su terra 2.0 vedremo un attimo intanto andiamo a fare una cosa andiamo a vedere luna cosmos come sta andando no luna se luna cosmos luna coin jack come sta andando e ora ci aprirà lunk chiaramente ma io invece lunk sta andando vabbè ormai a ramengo ma noi vogliamo vedere luna in questo momento vediamo un attimo come sta andando ok 5.94 euro siamo a 3.33 per cento diciamo che mettiamo 14 giorni ok dal botto iniziale a 17.58 mega dump fino a 4 euro circa ora siamo in euro poi mega ripresa fino a 10.38 chiaramente qui ci sono un po di giochi di scalping vari e poi in questo momento siamo più o meno stabili sui 5 6 euro ok vediamo un po come va avanti io non credo che durerà molto nemmeno a questo a questo livello chiaramente se andiamo a vedere totale vediamo un attimo l'altro giorno avevo fatto un sondaggio su su telegram e il tipo 73 per cento delle persone ha risposto che avrebbe dampato terra o non ci crederete ma il primo giorno se non sbaglio andiamo a vedere qua da fate un attimo il contro a 17.58 a una prima fase tipo a 6.18 5 così sostanzialmente vuol dire un dump del 70 per cento quindi sostanzialmente il sondaggio su telegram ha rispecchiato molto bene quello che è stato il dump il mega dump iniziale di terra e questo mi fa anche piacere che vuol dire che nel gruppo nei sondaggi del gruppo abbiamo un bel un bel come dire un bel bilanciamento abbiamo una bella panoramica di quello che poi è il mondo là fuori questo mi fa molto molto piacere ok detto questo torniamo a terra 2.0 projects questi sono tutti i progetti che stanno che stanno o rilanciando oppure che hanno scelto di fare di fare in maniera differenza per esempio andiamo a vedere su vediamo vediamo su no al contrario kugira ah no fa proprio vedere ok questo vuol dire che kugira non sarà giusto come hanno detto si fanno la loro chain e quindi non li hanno nemmeno vediamo un attimo però mi sembra così strano kugira ok non li hanno nemmeno messi all'interno del file pensavo che almeno avrebbero detto avrebbero detto no loro tipo x invece nemmeno messi proprio infami andate bene via ok comunque qui trovate tutti i protocolli che stanno che stanno lanciando nuovamente su terra 2.0 che stanno lavorando vediamo un attimo alcuni sono più famosi alcuni meno mi domando anchor protocol che cosa mai potrà fare però datemi solo questo istante per vedere cosa sta proponendo dunque wow quindi stanno proponendo davvero qualcosa per anchor protocol va bene vedremo vedremo poi come si poi vi faccio sapere che cosa stanno proponendo come si stanno muovendo mi sembra incredibile nel senso che anchor protocol si basava sostanzialmente sul ed era come abbiamo sempre detto la porta all'ingresso del del mondo di di luna almeno della luna attuale luna classic e funzionava sulla base di usd come sappiamo bene quindi senza usd non so bene come possa funzionare su luna 2.0 ma qualcosa si inventeranno anche loro dopo tutto devo dire che era stata molto interessante l'idea iniziale cioè era stata come dire un'ottima idea un ottimo veramente un'idea facile ma eccezionale quella di anchor protocol 1 può darci che si inventino un anchor protocol 2 non nessuno lo mette in dubbio dunque 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 un wallet da poter utilizzare per argofinance si può usare anche il defi wallet di crypto.com si può usare anche il defi wallet di crypto.com ma può usare anche più facilmente banalmente metamask quindi se vai all'interno di argofinance.money entri all'interno dell'applicazione fai connect wallet vediamo se lo vedete si metamask ok oppure il crypto.com defi wallet io preferisco molto il più metamask perché è molto più integrato e a mio parere funziona anche meglio però mia personale mia personale così mia personale modo di lavorare ok allora 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 per quanto riguarda lo short allora ragazzi scusatemi un attimo salto non erano uscite voci anche sulla nuova stable di terra jimson onestamente non lo so non lo so la la quello che dovrebbe uscire vediamo quando cioè non ho notizie se hai notizie dammi qualche dammi qualche info mi fa un sacco piacere quello che so per ora è che l'idea era di fare una stable coin sovracollateralizzata un po al modello dai modello dai vuol dire che tu metti dentro che ne so 10.000 euro di ethereum ok per dire dai e puoi decidere quanto tirare fuori in stable coin chiaramente devi stare attento alla liquidazione perché poi se ethereum scende chiaramente vai a essere liquidato ok quindi questo attenzione dall'altra parte invece un'altra possibilità che ho sentito ma proprio così e così non vuol dire aloha ma vuol dire proprio sentita da voci di corridoio e affidarsi potenzialmente a rune usdt rune usd ok rune usd è una stable coin ok vediamo un attimo torce in dollar vabbè ancora in realtà praticamente non esiste cioè solamente nella mente di chi la sta pensando sulla torce in sostanzialmente l'idea di andare a creare della stable coin a partire da rune quindi dare anche questo in realtà a livello di medium a livello di di road map c'è questa idea è già già in uno stato avanzato di idea a livello tecnico ancora non è implementata però potrebbe essere anche quella di pensare a un'unica stable coin che a quel punto non è più non è più usd che è quella perché usd chiaramente abbiamo visto che il modello algoritmico è molto molto complicato appunto essendo proprio algoritmico ha le sue pecche là dentro o arriva un modello algoritmico migliore e questo solo il tempo ci dirà oppure oppure si crea una appunto questa rune usd sulla base della quale poi essendo completamente ibc potendo lavorare all'interno di tutto il mondo cosmos potenzialmente potrebbe essere spostata su altre chain e utilizzata vediamo un attimo come come viene come viene gestita questa fase come viene accettato perché chiaramente attenzione terra aveva la migliore stable coin del mondo che si pensava potesse spaccare tutto e poi abbiamo capito che non era così accettare che un'altra chain va bene che sempre dell'ecosistema cosmos ma comunque un'altra chain prenda questo potere e che le altre e che terra possa accettare che ci sia un'altra stable coin e usare quella la non è una cosa banale proprio a livello di a livello di rapporti fra team fra chain fra fra community ok quindi bisogna capire anche lì come si come si gestiranno gli usd come sta andando gli usd allora in questo momento ho letto proprio ieri gli usd andiamo un attimo a vedere se troviamo scusate bevo un attimo eccoci qua allora forse nel white paper non mi ricordo perché ho letto un articolo non era il white paper no ok però in questo momento cosa stanno facendo chiaramente si sono resi conto del problema della stable coin algoritmica ok perché è evidente quindi stanno stanno virando un po' anche loro la direzione quello che stanno sostanzialmente cercando di fare è in questo momento introdurre un un hard cap quindi dire ok più di una certa capitalizzazione non ci vogliamo andare proprio perché prima di andare oltre mi pare due miliardi di dollari vogliamo essere strassicuri che questo modello non possa che qualcuno non lo possa dampare che qualcuno non possa fare casino esattamente come hanno fatto con con terra dall'altra parte cosa hanno fatto hanno fatto in modo di avere delle riserve che siano circa quanto il 100 200 per cento di di quello che è in questo momento depositato se non sbaglio vado un po a naso perché perché ho letto velocemente un articolo ieri non mi sono troppo soffermato perché in questo momento come dire non 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 è troppo nella mia non voglio rientrare in questo tipo di meccanismo cioè prima di affidarmi nuovamente a qualche stable coin diciamo innovativa ci passerà del tempo che sia anche quella di rune cioè non è che appena esce quella di rune visto che mi piace rune mi butterò a pesce lesso per dire sì questa ora va bene spettacolare andiamo su questa quindi attenzione come sempre a diventare fanatici dei progetti cosa che forse ci è capitato in passato e questo errore non dobbiamo più farlo quindi gli usd prometto che per la prossima volta mi informa un pochino meglio però sostanzialmente sono queste le cose che stanno vedendo quindi una arc up e usd partirà il 5 giugno no è già partita gianluca non so cosa intendi per partire al 5 giugno e dall'altra parte invece una una copertura sostanzialmente in altri asset che possa appunto aiutare fare quello che era il defender per quanto riguarda luna che poi non ha funzionato per nulla anzi forse paradossalmente ha quasi ha quasi innescato il meccanismo inverso ok quindi chiudiamo gli usd argofinance dunque eccoci qua col copy trade di bybit molto interessante lo sapete che c'è una una dentro di me c'è sempre una componente che dice sai che c'è che chi lo fa di mestiere il trading lo sa fare anche abbastanza bene ok conviene c'è iniziato malissimo la frase però che ci sono delle persone che fanno del trading e lo fanno anche piuttosto bene e se uno non lo sa fare per esempio io ammetto non sono non sono molto esperto a livello di trading ok non è non è un campo che poi mi interessi particolarmente però una piccola percentuale nel copy trading mi interessa tantissimo e in particolare esattamente come lo uso all'interno di itoro ok in quel caso possiamo chiamarlo non è non è trading proprio nello specifico ok però è qualcosa del genere anche in questo caso mi piace molto l'approccio di bybit che ha messo dentro questi di questi copy trading qua ci sono i principali traders quindi hanno tutte queste caratteristiche e mi sono già segnato di farci un video riguardo il copy trading di bybit perché secondo me è molto interessante quindi ci sono queste 23 pagine di traders che si possono copiare e in questo momento ancora non ho fatto nulla cioè non ho nemmeno nemmeno fatto un check però vedo che qua molte 250 su 250 quindi probabilmente vuol dire che ci sono no perdono vuol dire che ci sono già ci sono già il numero massimo di persone che possono essere iscritte a questi trader ma questo ve lo saprò dire ma lo trovo molto molto interessante visto questo vi lascio il il referral qui sotto ora onestamente non mi ricordo nemmeno che cosa di rferral perché l'ho preso molto al volo ma la cosa ok con 20 dollari mi pare che sia un bonus d'ingresso di 20 dollari e va bene ok ci sono un po di diciamo che bybit mi ricorda un po le aliexpress cioè nel senso che tutto funziona però ci sono un sacco di pop up vinci questo vinci questo e poi qualcosina magari riesci anche a a tirar fuori però tendenzialmente non è il il come si dice l'exchange che di base uso per tutte le cose ne uso altri in particolare ftx è quello che binance ftx ma ultimamente come vi ho già detto ftx mi sta convincendo molto di più però per quanto riguarda la funzione di copy trading non mi pare che in tanti altri ce l'abbiano ok almeno delle piattaforme più più conosciute più in voga chiaramente poi nel caso vi farò sapere se ci sono aggiornamenti eccoci qua allora noi direi che siamo a buon punto per questa live torniamo un attimo su atane andiamo a vedere ecco qua guarda veramente siamo a al limite al limite per per no ho fatto il contrario andiamo a vedere un attimo quanto ci manca perché anche la candela di questa settimana diventi negativa perché siamo veramente lì a a un passo a un passo dal dal nulla dunque siamo 29.529.592 e 29.454 ok siamo veramente a tanto così che anche questa candela potenzialmente diventi 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 negativa ok però vabbè insomma vediamo vediamo come 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 va avanti dunque per il copy trading meglio by bit o bit get guarda neostyle buonissima la tua domanda non te lo so dire perché per ora non mi ero praticamente nemmeno mai interessato al copy trading onestamente proprio non è stato non era stato oggetto dei miei pensieri ok proprio a per essere per essere completamente trasparenti quindi anche su questo a questo punto ci ci faccio un po di un po di approfondimento e capisco qual è qual è il diciamo provo a capire qual è il modo con cui io mi approccierei e potenzialmente vediamo se nel lungo termine trovo anche un piccolo spazio nel mio portafoglio da allocare in maniera o costante o diciamo a momenti nel copy trading vediamo un attimo anche come appunto come si prospetta quali sono i costi le opportunità che ci sono perché per ora vi dico non non le conosco praticamente per niente grazie Bernardo interessante il copy trading aspettiamo tuo video grazie beppe ve lo farò quanto prima anche se in questo momento sono un po frastornato vi dico la verità sto preparando un video recap di tutto quello che ho fatto a torino da young platform dovrebbe uscire lunedì spero di farcela per lunedì e più lo riguardo più dico cavolo che figo cioè sono stato molto molto contento stato il primo video che ho fatto diciamo in esterna quindi a casa di qualcun altro sono molto contento perché a parte conoscere poi ora personalmente young platform le persone che ci sono all'interno fidarmi con tutti i discorsi che abbiamo fatto prima che non sono le commissioni che mi convincono mi convince l'ecosistema a chi si rivolgono il target tutto quanto è questo che deve deve convincere dall'altra parte appunto ho avuto ho avuto la fortuna di poter parlare con i founder con tre founder e poi con matteo che è il responsabile marketing e mi hanno tolto un sacco di dubbi mi hanno dato un sacco di buoni spunti quindi veramente ottimo 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 sono molto carico quindi appena finito questo video lo carico online e poi torno a montare il mio bel video su young platform infatti ora diciamo che sono passati quasi 50 minuti mi sa che fra poco ci lasciamo così torno a quegli altri lavori un po noiosi di montaggio però che che ci vogliono per ora per ora per ora vediamo se in futuro riusciamo a ottimizzare anche questa parte ciao bernardo ci sono novità per possibile rimborsa ai possessori di usd alex dunque alex in realtà già tutto è stato fatto allora diciamola diciamola bene gli snapshot sono stati fatti l'airdrop è stato fatto è vero che ci sono alcune persone che dichiarano effettivamente il terra ha detto che è così che alcune persone che non hanno ricevuto l'airdrop al completo che cosa si può fare cioè che cosa possono fare queste persone tendenzialmente nulla aspettare ok purtroppo aspettare nel senso che magari uno voleva vendere il una che gli sono stati dati e non può farlo c'è poco da fare cioè non c'è altra soluzione ok purtroppo non so dirvi altro se non arrivano i token all'interno del vostro del vostro portafoglio purtroppo vuol dire che proprio non sono stati inviati altrimenti poi la blockchain di per sé funziona ok detto questo andiamo un attimo sotto lo swap perché c'è l'ultima chicca che volevo farvi vedere e in particolare è terra update come vedete terra chain è temporaneamente non disponibile ma in realtà terra chain will be removed with turn node update 1.91 ok quindi la chain di terra sarà rimossa completamente dall'ecosistema dal diciamo dall'exchange chiamiamolo così di tor swap quindi non avrà più modo di interagire con la tor chain ok e un'altra cosa che però mi interessava farvi vedere su cui tra l'altro sto realizzando giusto aurora un aurora appena appena finiamo un come si chiama un tiktok allora mettiamo busd rune come vedete in questo momento un anzi scusate un tiktok ve l'ho detto anche oggi su telegram che sono scemo mi dimentico le cose in questo momento un rune viene cambiato su tor swap con 2.7 busd se andiamo all'interno di binance rune vediamo questa cosa vedete che in questo momento viene cambiato a 3 addirittura quindi no vabbè 2.84 ok perfetto mi sembrava un po strano 2.86 pardon quindi in questo momento c'è una differenza di circa 16 17 centesimi ok la qualcosa crea un'opportunità di arbitraggio interessante cioè se noi avessimo per esempio 5000 dollari li cambio 1847.57 rune poi prendo questo quantitativo quindi 1847.57 non vedete ma faccio la calcolatrice davanti e li moltiplico per 2.866 che è il valore su binance in questo momento mi porterei sempre far nulla senza far nulla mi porterei a casa circa 300 dollari ok ora il punto è questo che ci sono le commissioni bisogna poi fare un cambio cioè bisogna portare fuori busd da binance cambiare su tor swap portare rune da tor swap sempre su binance ora però il punto qual è è che se io prendo rune nativi non posso portare all'interno di binance perché su binance se vado a fare il withdrawal vado a vedere quali sono le le chain per quanto riguarda supportate da binance in questo momento hanno messo la torcene non ci credo non ci credo allora ragazzi no però in deposito non funziona scusate perché l'ho guardato oggi stesso deposit fee free oggi non mi ha permesso mica di farlo allora stavo dicendo la seguente colpo di scena in diretta colpo di scena perché stavo dicendo se andiamo a vedere cosa si può usare all'interno di binance si può usare solo la bnb con chain quindi che sarebbe bep 2 ok ma quando io vado a cambiare busd con rune mi da rune su rete nativa ma in questo momento ma ora vi giuro vedo che in teoria binance supporta anche la tor chain supporta la tor chain ma stamattina che ho visto sta roba non non no 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 alex lo so che il deposito è gratuito ma il punto è che stamani non mi ha permesso di depositare sulla tor chain a questa è una storia va bene questo ve lo faccio sapere allora vi do un aggiornamento fra poco fra poco dopo dopo questa diretta me lo riguardo attimo perché stamattina non mi faceva depositare rune su rete nativa e questo era il problema capito quindi volevo tirare fuori busd da binance convertirli all'interno all'interno di tor swap e poi ritirare il rune all'interno di binance e di convertirli premesso che poi ci sono le swap fee e tutto quanto però potenzialmente ci sono comunque 300 per dire su 5.000 dollari ma capito che se c'è questo gioco uno può dire ma io prendo in prestito 100.000 come so come dovreste vedere ora in questo momento quindi prendo 36.393 rune li cambio con 2.87 e in questo modo mi porta a casa sostanzialmente 4.000 dollari senza far nulla ok vediamo vediamo provateci ragazzi lo proverei in questo istante con voi se non fosse che devo devo aprire il mio devo aprire il mio account di binance e insomma non lo posso fare da questo browser da qui sono quindi basta ciao ragazzi chiudiamo tutto perché no scherzo però questo concetto è molto interessante cioè giocare sull'arbitraggio in particolare con tor swap sto vedendo che può dare delle in alcuni casi può dare delle delle grosse felicità grosse dove grosse è relativo a quanto uno può investire chiaramente attenzione come sempre che come vedete tor swap comunque ha delle fee da sostenere ok a parte lo slippage vabbè questo su 100.000 è abbastanza grande però per dire su 5.000 è uno slippage limitato però chiaramente ci sono anche delle fee da considerare in tutto il conto ok ragazzi fatemi sapere se diventate ricchi con questa roba che vi ho detto alla fine che mi sembra super figa la farei ora se potessi e magari dopo mi riguarda un attimo che cos'è e mi riguarda un attimo perché non mi faceva depositare sulla tor chain quindi su rete nativa dice ale che forse l'avranno abilitato da poco sì ma non credo che l'abbiano abilitato ora mentre io stavo facendo la live cioè mi sembra mi sembrerebbe veramente una coincidenza troppo troppo incredibile bene amici allora noi abbiamo visto tutto per oggi ci lasciamo con con questa speranza di ancora una volta diventare extra milionare scherzo ragazzi e faccio chiaramente il burlone ok ho appena provato l'app di binance posso riposare solo sulla bep 20 sulla bep 2 è esatto ha infatti need 83 non mi torna sto fatta incredibile va bene ci rifaccio un un giro dopo e vi vi do un aggiornamento comunque sia secondo me la stanno per abilitare ma ancora non è quindi hanno aggiornato la pagina qua ma non è ancora abilitata va bene amici grazie mille di tutto noi ci vediamo come sempre dall'altra parte su su telegram su youtube da tutte le parti e niente fatemi sapere se diventate milionari per il adesso noi ci aggiorniamo direi lunedì col video e poi martedì alle 21 in live vediamo un attimo di riprendere un po più di cadenza con le live perché nell'ultime due tre settimane mi sono lasciato un po andare a tanti eventi a tanti giri che ho fatto in un po per l'italia amici grazie mille ci rivediamo presto ciao ciao